Fumata bianca in assise comunale, varato regolamento su strutture di commiato che è al parco di Via Padova, al palo Quote Rosa in giunta. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento delle strutture del commiato, provvedimento incardinato nel corso della seduta, poi interrotto per mancanza del numero regale. La proposta del struttore servizio cimiteriale è passata con 17 sì e 9 astensioni, mentre è stata bocciata l'immediata esecutività con 10 astensioni e 9 voti favorevoli e 9 contrari. La proposta era stata illustrata in aula dall'assessore Teresella Celesti che ne aveva sottolineato il valore civile e aveva indicato come impianto giuridico di riferimento la specifica normativa regionale e provvedimento dell'azienda sanitaria provinciale. Ciò che mancava per avere delle strutture del commiato perfettamente disciplinate era il regolamento comunale. Il documento approvato prevede che la gestione deve essere appannaggio solo degli operatori del settore funerario, previa autorizzazione del comune e incoerenza con quanto previsto dal regolamento di polizie mortuarie, la cui ultima modifica risale al 2022. La funzione delle strutture del commiato è di sostituire, qualora fosse richiesto, le abitazioni private per lo svolgimento di tutte quelle attività che seguono il decesso, compresa la fase di osservazione, per rilevare eventuali segnali di vita del corpo che è fissata in 24 ore e si possono svolgere eseguie civili e anche quelle religiose nel caso di defunto appartenenti a confessioni che non dispongono di spazi idoni. Il trasferimento dalla casa privata o da una struttura sanitaria deve essere sempre segnalato all'ufficiale di Stato civile e al medico. Il tema delle aree di emergenza in caso di calamità è stato affrontato sulla base di un atto di indirizzo presentato dalla Quarta Commissione, preso tutto da Angelo Greco, che lo ha illustrato in aula. Il documento approvato all'unanimità evidenzia alcune criticità relative alla conoscenza da parte dei cittadini delle aree, alla loro accessibilità e al funzionamento. Con una mozione firmata da Paolo Romano e Paolo Cavallaro che l'ha illustrata, l'aula si è occupata inoltre delle condizioni in cui si trova il Parco Stefano dell'Aquila di Via Pado e due consiglieri, dopo averne denunciato lo stato di abbandono, hanno chiesto all'amministrazione di effettuare una manutenzione installando giochi per bambini e realizzando un impianto di irrigazione e ogni altro intervento per migliorare la fruizione e la valorizzazione dell'aria. La mozione sulla quale ha intervenuto favorevolmente Desimone è stata approvata all'unanimità. Con 13 astensioni e 5 voti favorevoli è stato respinto invece un ordine del giorno del gruppo del PD Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla sulla rappresentanza di genere nelle giunte comunali, questione all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana. Infine l'ordine del giorno sui debiti fuori bilancio presentato da Franco Zappalai e Alessandra Barone su richiesta degli stessi proponenti sarà trattato alla prima seduta utile per l'assenza degli assessori e dei dirigenti competenti.